Il tema è che è molto facile firmare un'ordinanza per il pezzo di carta, è molto più difficile rendere quel pezzo di carta efficace e attuabile, quindi per poter far sì che queste ordinanze siano poi effettive, efficaci, ci vuole uno sforzo enorme da parte di tutte le forze dell'ordine, di tutti loro che hanno una responsabilità e anche degli esercenti e degli esercizi commerciali. Quindi i passaggi che abbiamo fatto sono stati, il primo come ha detto il prefetto e l'abbiamo fatto ieri e oggi ancora stamattina e tutto il giorno, verificare, ma questo in realtà era un qualcosa che conoscevamo già abbastanza, quelle zone dove storicamente, parlo storicamente intendo dall'emergenza Covid, ci sono state più difficoltà e dove alcuni indicatori come ad esempio la facilità di generare assembramenti sono stati evidenti e quindi siamo partiti da queste aree. Il secondo tema su cui ci siamo confrontati era evidentemente come attuare queste ordinanze e stiamo ancora attendendo alcuni elementi, ma su questo ci tornerò dopo, quindi come rendere efficace il fatto che dopo un certo orario all'interno di un'area sostanzialmente non si può transitare se non per motivi che devono essere evidentemente palesati e condivisi e autorizzati. Quindi c'è anche tutto un tema di applicabilità di un'ordinanza e quindi bisogna mettere in campo le forze che siano in grado di rendere efficace quell'ordinanza, cosa che oggi abbiamo in parte fatto. E' chiaro che servono ancora alcuni passaggi che vi dico perché avverranno domani, come anticipava già il signor Prefetto, domani noi avremo come sindaci metropolitani un incontro con la Ministra in cui chiederemo anche una maggior forza, un maggior ausilio da parte delle forze dell'ordine, non inteso che non siano disponibili perché tutte le forze dell'ordine, signor Prefetto, signor Questore, comandante dei provinciali dei Carabinieri, la Guardia di Finanza oggi al tavolo ha detto che è disponibile a fare in massimo, però soprattutto in un'ottica poi di allargamento, nel senso di aggiungere altre aree, servono servizi e quindi servirà uno sforzo molto importante, di questo tutti i sindaci credo che chiederanno domani alla Ministra Lamorgese. Quindi domani avremo questo incontro che sarà molto importante. Parleremo con i presidenti di circoscrizione, come è corretto che sia, anche per comunicare e condividere rispetto a alcuni aspetti anche di applicabilità delle ordinanze. Lo stesso faremo con le associazioni di categoria e poi faremo un passaggio e di questo voglio ringraziare l'unità di crisi, credo che sia presente il dottor Rinaudo, domani insieme ovviamente anche al Prefetto, anche per valutare l'aspetto sanitario, cioè che le aree che noi andiamo a indicare come Comitato per l'Ordine Pubblico, che oggi abbiamo in qualche modo iniziato a identificare, siano coerenti anche con gli aspetti sanitari. Quindi fatti questi ultimi passaggi che avremo tutti nella mattina e prima pomeriggio, poi chiuderemo, credo già entro domani sera, verranno firmate le ordinanze. Quello che posso già anticiparvi, perché tanto so che me lo chiederete, quindi il ragionamento che abbiamo fatto sulle aree vede come e vedrebbe come primi interventi, che non significa che ne escludiamo altri, anzi sarà credo man mano una verifica ovviamente dell'attuazione e sicuramente dovremmo allargare su altre zone, però i primi tre punti su cui noi abbiamo condiviso di intervenire alla luce dei dati che abbiamo in ambito del Comitato per l'Ordine Sicurezza Pubblica, ma poi domani faremo ancora tutti questi passaggi, sono sicuramente Piazza Santa Giulia, che come sapete è stato un progetto anche più volte della vostra attenzione, ma al di là di questo è proprio il tema che abbiamo assembramenti. Abbiamo individuato Via Matteo Pescatore, che è un'altra via che ci ha creato, ci crea molte difficoltà, e Piazza Montanaro, quindi ci spostiamo sull'asse della sesta circoscrizione. Questo non significa che altre zone, penso a Largo Saluzzo, ma potrei indicarne altre, non siano oggetto della nostra attenzione, ma significa che siccome noi vorremmo intervenire già questo fine settimana, e quindi l'ordinanza appunto, come dicevo, le firmeremo per andare in attuazione già questo fine settimana, inizieremo appunto con queste tre aree, per poi valutare, tarare meglio e sicuramente io immagino estenderà anche altre zone più problematiche.